Come sempre in un pasticcio ritroviamo Franco e Ciccio. Ciccio passa giorni tristi nel fortino dei sudisti. Mentre c'è la secessione Franco bussa a quel portone e finisce in un pasticcio tra quel Franco con quel Ciccio. Il comando superiore, qui il sesso di staccamento. Sì, tutti gli uomini sono caduti in un'imboscata. Sono rimasto solo. Prevedo un attacco del nemico di quelle sporche giacche blu. Sì, prevedo un attacco in masse che devo fare. Come? Ma il nemico è alle porte. Ci sono. Salutatemi mio cognato. Avanti. Buongiorno a tutti. C'è una camera libera, ho sicuramente compagno. Sono di passaggio, vorrei riposarmi. Una divisa grigia. Il grigio sta su tutto. Sei del sud? Terrone. Terronissimo sono. E allora attenti. Perché c'è uno scalino. Ma che scalino? E allora attenti. Ma no, lasciami finire. Attenti. Scendi. Diciamo attenti quando sei davanti al tuo generale. E chi è? Io. Parola. No, no, non c'è bisogno, ci credo. No, dico parola. Ah sì? E io mi prendo il piatto. Ma che fai? Lei dice parola, io dico chip e mi prendo il piatto. Il gioco è gioco. Parola d'ordine, la sai? No. Ah, allora sei una spia e io ti ammazzo. No, 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 ma come se mi permette? Ma come uno viene qui? Chiedo spadale d'essere, trova davanti a uno che lo vuole ammazzare. Non tremare. Non facciamo gioco di pistola. Non tremare. Un vero soldato non deve tremare. Ma io sono... Deve saper morire dignitosamente. Io sono senza dignità. Ecco. sei veterano? Perché si senta male? Che? Dica 36. E che c'entra? E tre ce li metto io. No, dico che c'entra perché... E lei ha detto se ci vuole un veterinario. Veterano, veterano! Sei un vecchio soldato o sei, diciamo, da poco arrivato? Da quanto tempo sei sotto le armi? Ah, ecco, dunque un peccacè, un peccacè, un peccacè, un peccacè, insomma, che oggi... Oggi che giorno è? Sabato. Ah, ecco, da lunedì. Lunedì scorso? No, lunedì prossimo. Sì, ecco la caltorina rossa. Mi devo presentare al reggimento. Avanti, ciao, 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 ciao! Ecco perché non sapevi la parola d'ordine. Sei nuovo? Sì, non sono stato ancora usato. No, no, dico sei nuovo, sei arrivato adesso. Eh, sono arrivato adesso. Bene, bene, figlio. Eh, papà? Papà? Non sono tuo padre. Non ho mai conosciuto mio padre, lei mi capisce. Bene, figlio. Allora me ne vado. Dove vai, passo? Dove vai? Come me ne vado? Ah, non sai che la zona è piena di quelle sporche giacche blu? Benissimo, faremo società, apriremo una lavanderia e lo avremo tutto e guadagneremo soldi appalati. Eh? Ma che lavanderia estideria? Ci mettiamo a fare i lavandagni, eh? Eh, non so. Piuttosto ho bisogno delle canottiere pulite. Beh, ho bisogno dei rinfozi ben armati. Eh? Quindi, caro figliolo, tu rimarrai con me. Papa sì. Papa no. Papa sì. Dimmi signor sì. Signor sì. Come hai detto? Signor sì. Questo accente è un po' strano. Oh. Missuri? 1,74. Senza tacchi. Con i tacchi 1,50. Non mi hai capito, figliolo. Dico Missuri, Luisiana. Di che sei? Sei della Columbia? Mezzo Goldemire. Eh? C'ho un contratto. Devo girare un film con John Wayne. Lui spara e io muoio. All'inizio. Le resagate. Pa, pa. Oh, mi hai colpito. Va bene, ho capito, figliolo. Va bene, ho capito. Da oggi in poi hai un contratto con l'esercito. No, perché girano un film? Giriamo un film. Ma che giriamo un film con l'esercito? Prendimi il canocchiale. Che? È un ordine. prendi il canocchiale. Come si chiama? Non ti interessa. Suppongo che sei un po' crudo, diciamo. Sì. Sei un po' inesperto, non hai istruzione militare, vero? Ebbè, sono in, come si dice, anarmabetta. Analfabetta? Senza armi. Ah, non conosci le armi? Bene, ti insegnerò io. Incomincerò con una domandina molto facile. Facile. Supponiamo che ti smarrisci in un bosco. Ah, la sola conosco. Che occhioni grandi che hai per vederti meglio. Che braccia lunghe che hai per abbracciarti meglio. Che bocca grande che hai per mangiarti meglio. Ma cosa fai? Stai fermo. Cos'è questa storia? Capuccetto rosso, con il lupo a vetto cattivo. Ti dicevo, supponiamo che ti smarrisci in un bosco. Ad un tratto ti accorgi di trovarti in un campo di nordisti. Che fai? Che faccio, generale? Siamo uomini. Che faccio? Afferro la svedese. La svedese? Eh sì. E dove la trovi, la svedese? Nel campo dei nudisti. No, nudisti. Nordisti, nordisti. Ah, scusi l'equinozio. Passiamo ad altro. Apri quella cassa, sai cosa c'è dentro? I biscotti. No. I grissimi. No. Ci sono i fucili da montare. Fucili? Al mio ordine mi darai quello che ti chiedo. Stai bene attento, eh? Signor sì. Guarda che questo è un esame importante. Signor sì. Dammi un calcio. Posso? Sì, è un ordine. Ah, cosa fai? Cosa fai? E gli ordini non se ne scudono, ma scusi. Dammi un calcio, il calcio del fucile. Prendilo. Ah, il fucile? Che bello, ultima maderma. Vedi, questo è il calcio. Ah, questo è il calcio. Adesso che sai cos'è il calcio, cercami un cane. Posso chiedere cosa stai facendo? Eh, faccio il cane per avvicinare un altro cane. No, no, ho detto cercami un cane, ma non un quadrupede. Questo è il cane, questo, guarda. questo è il cane. Cos'è piccolo. Sì. Di ferro. Sì. Stanno cambiando il mondo. Eh. Stanno cambiando il mondo. Ma una rosa di sera non diventa mai nera. Abramo Lincoln. Giole sanguette. La 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 la. La la la. Ho capito, va bene, vai. Ho capito. Adesso che sai cos'è il cane. Per concludere ci vorrebbe un grilletto. Ce l'ho io. Grilletto. Sono fornito. Ecco. Conosce tutta la traviata. La canto a memoria. Posso chiederti cosa ci fai in giro con un grilletto in gabbia? Perché l'elefante non c'entrava. E poi, sa perché porti il grilletto sempre appresso? Sì. Perché la buonanima di mio nonno mi disse, quando vai nel te che sasso, ricordati, metti il dito sempre nel grilletto. Va bene, ho capito. Non ti preoccupare, figliolo. Faremo e farai molta carriera, va bene? Grazie. Adesso stai attento a quello che ti dico. Mi dica. Io ho un piano. E io ho una fisarmonica. E cosa vedi? Io ho un piano. Piano di guerra, no? Ah, piano di guerra. Ho un piano di questo genere. Ascoltami bene. Io l'ascolto, oh, papà. Paglia, non sono tuo padre, va bene? Papà. Ma non te lo devo più ripetere, è chiaro? Oh, sopra sediamo. Eccomi qua. Mamma mia. Che gamba è? Ma che gamba è? Aspetta, non sei preoccupato. Ma perché? Il cappello. Ma ecco il cappello, io lo prendo io. Ma scusa. Ho detto sopra, sediamolo in questo genere, va bene? E va bene. Lì, che c'è? Ti dicevo che ho un piano. Che c'è? Zitto. Questo rumore non mi è nuovo. Sai cos'è? Certo che lo so. La festa di piedi grotta. I giochi però tecnici, questi i napoletani. Sono i nemici. Quali nemici? Ci siamo. Ci siamo. Ma non si prenderete mai. È inutile che ci attaccate. Venderemo cara la vostra pelle. Io non vendo. È incredibile figliolo. Mi deve scusare. È incredibile figliolo. Con tanta carriera militare non ho mai incontrato un pazzo come te. Lei mi deve scusare. E dire che ho fatto molte campagne, sai. Che cosa le è successo? Guarda. Perché c'è il guantanero. Guarda qui. Che c'è? Fronte del generale Custer. Ah, meravigliosa. Meravigliosa. La sostituzione dell'Essi non sembra neanche la fronte del generale Custer. Sembra la sua. Speciecata. Due gocce d'acqua. Precisa. No, fronte del generale. Fronte trincea. Prima via. Ah, capisco. Guarda questa mano. L'ho perduta a Forte Alamo. La gamba l'ho perduta a Forte Pascio. Ah, però lei è distratto. Lì si perde una mano. Lì si perde una gamba. Ma va a finire che una sera tornano solamente i baffi a casa. Lei deve fare attenzione. Zitto. Che c'è? Zitto. Chi è? Ci succede qualcosa? Mamma mia. Chi è? Ho sentito una tromba. Sì. Chi sarà? Aspetta, zitto. È la tromba, sì? Sì. È proprio lei. Sì. Sai chi è? Nen'e rosso. Ma no, sai chi è? Eh, non lo so. È il settimo cavalleggiero nordisti. Tu non sai cos'è la cavalleria all'opera. Non l'hai mai vista? Certo che lo so, signor generale papà. Certo che lo so. Io l'ho vista la cavalleria all'opera. O l'ora che hai di latti, la camisa, se il rosso è più negra. No! Rigoletto, terzo atto interno unico. No, non me l'ho mai vista te. Eh? Zitto. Mamma mia. Che è successo? Non ci prenderetevi gli acchi. Ah ah. Sporche giacche blu. Lavatemi. Lavatemi. Che mi fai? Lavatemi. Sai cosa fanno i nordisti e i prigionieri? Non lo so. Li ammazzano. Mamma mia. Ma noi non ci faremo ammazzare. Non ci faremo. E sai perché? Non lo so. Perché prima io ammazzo te e poi mi sparo io. Hai un'altra soluzione? Certo che ce l'ho. Non sarebbe meglio se prima lei si ammazza e quando si vede morto spara a me. No, 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 non mi credo. Eh? Generale! Chi è? Lo sappiamo che siete soltanto in due. Anche noi lo sappiamo. Non ci arrenderemo mai. E poi sono tutte di serie. Noi non siamo in due. Siamo trecento giovani e forti e non siamo ancora morti. E ora vedrete quello che vi accadrà perché noi siamo preparati. Scappate finché siete ancora in tempo. Carica! Nesto, comandante Smith, correte preparati col vostro manipolo. Avanti! Forza, soldati! Bravo! Avanti! 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 Fuoco! Si ritirano! Fuoco! 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 Ferito! No! Vuole dall'acqua! No, bravo! Beva! Si ritirano, sai? Si ritirano! Bravo figliolo! Abbracciami! Papà! Non sono tuo padre! Papà! Non sono tuo padre, mettitelo bene in mente! Eh, va bene, però... Generale! Si? Siccome io il papà non l'ho mai avuto... Si? Vorrei una sola soddisfazione! Dimmi! Me lo consente? La posso chiamare Babbo! Ma è la stessa cosa! Ci sono due B! Babbo! No! Comunque devo segnalarti a comando per una promozione! Va bene! Bravo! Grazie! Come ti chiami figliolo? Vecchitor Macchilacchi! Vecchi... Come hai detto? Vecchitor Macchilacchi! Sei sposato? Con Rosalia Macchi! Vedova Pollace? Si! Abitavi alla quinta strada? Si! Papà! Vecchio! Papà! Vecchitor Macchilacchi! Vecchitor Macchilacchi!